azione si va bene no ma che scarico mo parlo ok finiamo con l'elicottero azione ma che scena di merda veramente una moschita c'è una mosca precisa azione si prende per dietro una sola oh va bene nicola così e 5 ok ora l'uscita azione a porco diavolo compare dopo due riti si nicola tu fai una cosa appena senti il primo colpo corri e spari si sennò se lo fai camminando già da quando non ci siamo più ma ti sembra questo è il momento di fumare ok ora vieni qua buonissima ripacciamo noi un altro questo è il momento di fumare vieni vai ancora vai lo vedi si vai 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 pugni pugni ma riesci a mettere a fuoco eh pugni pugni muori 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 ok ok morto lì basta basta merda dai scusa nicole ci stiamo a scuola ancora 30 guarda nicole nicole è il nostro stunt girl vai 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 vieni 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 vai che cazzo di fare compare? quanti ne restano, Va bastando per dire credesero subito penso che devo avere il tempo di cambiare il caricatore vieni ah cioè non devo avere il tempo perché poi io prendo la pistola vabbè stacca e riattacca lei vai Qua tiene restano Ma devi dire la mia Posta REC Qua tiene restano Com'era la mia Deve spurtare REC Qua tiene restano Erano due jeep piene Ne rimangono Di domani Mi restano Azione Qua tiene resta Azione Vai Azione Azione Qua tiene restano REC Azione Qua tiene restano Erano due jeep piene Vai Aspetta Dico io Qua tiene restano Erano due jeep piene Ne rimangono Vai 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 Che cazzo fate Non mi ho sparato più Mori Nicola Esci e muori Nicola muori No no Siete morti una merda Così FALSE PEMMA I do that BES FALSE OK Azione HALSE Azzione HALSE Per quanto è qua si non c'è niente Azione Porco Azione Azione C'è moto C'è moto Marocco